Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta alberello al cacao con grasso al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero, cacao amaro, gran marnier, che è facoltativo, latte, burro, uova, vanillina, lievito per dolci e per la glassa cioccolato fondente e oli di semi di girasole. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la vanillina e le uova. ed azioniamo il bimbi per 6 minuti 37 gradi velocità 4 senza misurino aggiungiamo il latte il burro la farina il gran marnier il cacao ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5 aggiungiamo il lievito e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5 il composto è pronto versare in uno stampa d'alberello cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti circa fare sempre la prova a stecchino la torta e la torta è cotta lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo nel frattempo prepariamo la glassa mettere all'interno del boccale il cioccolato e tritare per 10 secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola e far sciogliere per 3 minuti 50 gradi velocità 3 aggiungere l'olio ed amalgamare per 30 secondi a velocità 3 versare la glassa sulla superficie della torta torta alberello al cacao con glassa al cioccolato grazie e alla prossima ricetta grazie 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 grazie